Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, oggi è lunedì 21 dicembre 2020, siete sul canale 17 di Fano TV, digitale terrestre, ma anche sulle nostre piattaforme, siamo su internet, buongiorno anche a coloro che ci seguono attraverso i cellulari o i computer. Allora, subito il santo di oggi, poi le previsioni del tempo, oggi è San Pietro Canisio, il sole sorgerà alle 7.42, tramotorà alle 16.30, adesso andiamo subito a vedere il tempo. Allora, feste di Natale, impulsi freddi dal nord, nord Europa, pioggia, neve che attraverseranno l'Italia, la vigilia di Natale, primi segnali di cambiamento, insomma per quanto riguarda la nostra regione possiamo dire che pioverà nel giorno di Natale sicuramente, neve probabilmente sui monti, ma niente di che insomma. Per quanto riguarda la giornata di oggi, secondo il bollettino della protezione civile delle Marche, avremo ciò nuvoloso per nuvole basse stratificate e con venti di brezza leggera nelle zone interne. Per domani, martedì 22, siamo nella settimana di Natale, allora cielo parzialmente nuvoloso con nuvole medio-alte, per il resto non c'è nulla da dire se non ancora condizioni di tempo stabile con peggioramento appunto verso i giorni proprio di Natale, insomma ecco, per il resto solo, niente di che. Allora, abbiamo due notizie, una buona e una cattiva, a proposito del Covid, più o meno già le conoscete già, immagino, abbiamo questa variante del virus che è stata individuata, questa variante in Inghilterra e questa è la brutta notizia, perché poi tra l'altro questa variante è già stata individuata anche in Italia, in una coppia e la buona notizia invece è che probabilmente non inciderà troppo sulle terapie intensive e comunque il vaccino dovrebbe essere efficace anche di fronte a questa variante. Ma andremo a capire, a vedere meglio attraverso i giornali questo aspetto che soprattutto serve per tranquillizzarci senza farci abbassare troppo la guardia però. Allora, andiamo a leggere i titoli intanto dal Corriere Adriatico Resto del Carlino, edizioni di Pesaro e Urbino. Il Corriere Adriatico questa mattina apre con l'ultimo assalto, ciao normalità, quello che abbiamo vissuto e l'ultimo fine settimana era l'ultimo settimana tra virgolette normale, pranzi, aperitivi, acquisti, passeggio, i pesaresi si congedano dai riti delle feste prima delle restrizioni. Non solo il pomeriggio, in centro afflusso di gente iniziato dal mattino, complice anche il mercato cittadino. Andiamo adesso a vedere invece la fotonotizia che come sempre lunedì il Corriere dedica allo sport, lo sport di oggi con il Fano K.O. a Modena, la Vis invece che vince e che rimonta, l'Arezzo battuto 3 a 2, invece sul parquet della VL, la partita perfetta ha esaltato la VL. Le altre notizie da Pesaro rientrano a casa dopo lo shopping e la trovano razziata. Azione bipartisan per il Conservatorio, arrivano 6 milioni di euro a Pesaro e sempre a Pesaro si vota la variante per la nuova scuola Dante Alighieri. E poi il virus mutato nel Regno Unito, voli sospesi anche al Sanzio di Falconara. Il parcheggio invece dei camper a Fano sarà sosta a pagamento, nuovo assetto nel progetto di ampliamento dell'area, la zona di via Kennedy presentata dall'assessore Tonelli. Sul resto del carlino invece, edizione pesarese, conservatorio, arrivano 6 milioni. Parte la cittadella della musica con la ristrutturazione di Palazzo Olivieri, nel giro di un anno l'avvio del cantiere. Poi c'è un focolaio alla Scavolini, ma la produzione va avanti lo stesso, positivi negli uffici amministrativi. Fano e Interland, buoni spesa, quasi 1500 le domande presentate. Sul fotonotizia, centro pagina, la vis rimonta, l'alma cade, bianco rossi ok con l'Arezzo, granata battuti a Modena. Poi lo screening che va avanti, tamponi di massa, altri 18 positivi su 2263 test tra Pesaro e Urbino. Poi la cronaca, esalazioni di monoscopo, il figlio. Spiaggia di Ponente, sono partiti i lavori per le scogliere. Poi il video di Natale, Ivan Cottini e Bianca danzano nel parcheggio. Di taglio basso, il basket, Massa e Natasi Opera, VL sul mercato, l'infortunio della Guardia Americana cambia le prospettive della società. E poi calcio dilettante. In due sfidano Cellini, l'eterno Presidente. Si va al voto per il Comitato regionale della Federazione. Il 9 gennaio sarà una corsa a tre. Adesso andiamo e parliamo dunque di questo nuovo ceppo che ha creato certamente panico nel Regno Unito. L'Inghilterra è dunque di fatto isolata dal resto del mondo, ma la variante del virus purtroppo è già arrivata anche da noi, anche in Italia. Primo caso individuato a Fiumicino, scrive il resto del Carlino. Fermati i voli con Londra, gli scienziati del Regno Unito si trasmette, dice, il 70% più velocemente. Infatti questa è la particolarità di questa variante. Per il resto, volendo cercare sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che grandi differenze rispetto anche agli altri migliaia di varianti che ci sono, perché non è la prima variante, cioè il virus varia continuamente di volta in volta, ogni volta che passa da un corpo all'altro, chiaramente questo virus inevitabilmente si cambia, quindi non è una novità. Questa volta la particolarità è che, come vedremo, si accelera e quindi è il 70% più contagioso. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che la nuova variante è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda, Australia e ha spiegato che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà a capire il virus e come si diffonde. E ancora, il governo britannico ha ammesso che la mutazione, probabilmente già presente nel Kent all'inizio di settembre, è capace di procedere fino al 70% più rapidamente del SARS-CoV-2 già noto e le informazioni preliminari suggeriscono che la mutazione potrebbe incidere sull'efficacia di alcuni metodi diagnostici, oltre al fatto che potrebbe essere più contagiosa. Ora, che cosa dice il nostro Ministro della Salute Speranza? La variante da poco scoperta a Londra è preoccupante e dovrà essere approfondita. Scegliamo la strada della massima prudenza, dice il Ministro della Salute. Poi, vabbè, chiaramente in Inghilterra, ma questo ci interessa adesso fino a un certo punto, nella nostra rassegna stampa si discute molto sul fatto che che, insomma, queste persone, adesso tutti questi inglesi stanno scappando da tutte le parti, hanno tentato di andare via da tutte le parti, un esodo di massa, chi con i treni, chi con gli aerei, insomma, anche la coppia che è stata isolata, come dicevamo un poco fa, a Roma, il primo caso a Fiumicino, arrivava proprio dall'Inghilterra. E quindi, ecco, bisognerà fare attenzione, insomma, chi è stato in Inghilterra faccia la persona responsabile, stia, almeno negli ultimi 20 giorni, nell'ultimo mese, stia a casa, non faccia danni o perlomeno sia prudente. Ma la buona notizia, come dicevamo, è che il coronavirus e quindi l'incubo di queste mutazioni probabilmente non inciderà nel vaccino. Come vedete dal giornale, il vaccino ci proteggerà lo stesso e questo è importante, lo dicono i virologi, già osservate 12.000 trasformazioni, vedete, non è la prima, non è l'unica, quindi è normale trovare altri ceppi. Questa è una versione però più contagiosa, questa è la differenza che molto preoccupa in questo caso, è che siamo al 70% più contagiosa, però non è più aggressiva, questo è importante da ricordare. Ora, tra la gente si diffonde il panico per l'efficacia dei nuovi vaccini anti-Covid, ma la comunità scientifica spegne gli allarmismi. Dunque, che cosa dice la comunità scientifica? Dice che la variante di SARS-CoV-2 che sta circolando in questo momento a Londra, nel sud-est dell'Inghilterra, non sembra alterare né l'aggressività clinica né la risposta ai vaccini. È altamente improbabile che si perda l'efficacia del vaccino. Vorrei rassicurare gli italiani dicendo che davvero la risposta per uscire da questa situazione è il vaccino, spiega Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Mentre si ripetono gli appelli a restare a casa per scongiurare l'ennesima ripresa dei contagi, le autorità sanitarie inglesi stanno monitorando l'evolversi dell'epidemia. Si propaga più velocemente, questo è il fatto, lo ribadiamo, più velocemente senza però, e questo non dobbiamo dimenticarlo, causare, senza causare l'incremento del numero di ricoveri in terapia intensiva. Dunque non è più aggressivo, come abbiamo detto, è solo più contagioso. Questo è un dato importante, ma chiaramente questo ci complica comunque la vita, perché immaginate se adesso con quello che abbiamo sotto le mani, con quello con cui abbiamo a che fare oggi, che quindi ha un indice di trasmettibilità limitato, comunque più basso di questo, si contagia meno frequentemente, oggi bene o male una vita quasi normale possiamo portarla avanti. Con un virus che invece, se dovesse circolare in maniera importante, ma che si replica col 70% in più, quindi diventa veramente tutto più difficile, perché basterebbe incontrare una persona e quasi al 70% di possibilità di prendere il virus. Quindi poi bisogna andare in quarantena e tutto il resto. Ecco, quindi questa è una situazione che chiaramente complica la vita, però il bicchiere mezzo pieno, come dicevo, è che non è più aggressivo e comunque per ora le terapie intensive non ne risentono. La variante del virus come indice di trasmissione mostra un netto incremento, vedete, più 70% rispetto al precedente, ma il tasso di mortalità resta lo stesso, immutata anche la validità delle terapie. Questo è un altro aspetto importante, cioè come lo curiamo, come si cura questa nuova variante con le stesse terapie che abbiamo e che si stanno utilizzando in questo momento. Quindi questo già ci rende un po' meno, come dire, ci toglie un po' meno di ansia, un po' più di ansia. Allora, secondo le prime indicazioni, ha detto il Ministro Roberto Speranza, questa mutazione, anche lui lo dice, produce più contagie e questo è un problema serio, ma avviene senza provocare aggravamenti nelle persone che hanno contratto l'infezione. Gli esperti dicono che anche i vaccini possono funzionare ugualmente, tuttavia aspettiamo informazioni più dettagliate. Comunque il rischio esiste, e qui l'ho sottolineato in rosso, per questo dato in carico di sorvegliare le sequenze genomiche del virus che circola in Italia, dobbiamo assolutamente svolgere tutte le verifiche. Poi c'è Fabrizio Pregliasco che dice, lo vedete in questa fotografia, che cosa dice Pregliasco? La grande capacità di monitoraggio sistematico delle sequenze virali ci ha permesso di individuare oltre 12.000 minime mutazioni genetiche del SARS-CoV-2 e oltre 12 mutazioni più importanti. Ma vedete quanti sono? Quante ne hanno individuate? Quindi questa è una di quelle che si inserisce in queste 12.000. In Italia abbiamo visto che circolavano il ceppo proveniente direttamente da Wuhan e quello passato dalla Germania, ma probabilmente anche altri. Ciò è dovuto al fatto che questi virus possono cambiare qualcosa mentre si replicano. Chiudiamo, dice, le tante variazioni che ci sono state finora non hanno però inciso significativamente. Al momento posso escludere, dice invece Carlo Federico Perno, esponente del CIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive, dice al momento posso escludere che la variante Covid individuata nel Regno Unito sia meno sensibile al vaccino in arrivo, riducendone dunque l'efficacia. Ora, tutto questo, tutto a questo po' di roba, tutte queste paginate di roba eccetera, anche con titoli piuttosto forti, ma non tanto qui in Italia quanto negli Stati Uniti, tant'è che c'è una polemica sui media, sulle televisioni, giornali inglesi, perché stanno facendo titoli da catastrofe e da apocalisse. Comunque, virus mutato in Germania, voli sospesi anche per il Sanzio, stoppato fino al 6 gennaio il bisettimanale per Stansted, sono consentiti cargo e voli medici. Aumento dei contagi, Regno Unito isolato, limitazioni per traghetti e tunnel sotto la manica. Fra tamponi e screening, 741 positivi su 26.482 test, solo 73 con l'antigenico e venerdì e sabato sono stati effettuati 9.703 molecolari e 16.779 rapidi. Al test gratis il 5% dei residenti nei capoluoghi, l'obiettivo era il 70, quindi è un po' bassino, non siamo stati molto bravi fino adesso. Insomma, come dire, bisogna fare di tutto, anche per passare, come dicevamo sabato, le vacanze di Natale, tra virgolette vacanze di Natale in casa, più sereni, nel senso che se anche dovesse venire uno o due persone, un familiare stretto a trovarci a casa, oppure abbiamo intenzione di invitarlo a pranzo, al pranzo di Natale o alla cena, quello che sarà, insomma, avendo fatto il tampone, essendo tutti quanti negativi, uno sta un po' più tranquillo. Poi chiaramente non è un patentino per dire adesso posso fare quello che voglio, perché uno fa il tampone oggi e domani può essere contagiato, però comunque in vista delle vacanze natalizie può essere utile. Da oggi intanto niente spostamenti tra regioni, quando si può da un comune all'altro, tutte le regole da rispettare fino al 6 gennaio, guardate qui, uno deve andare via con il libricino per capire se rischia qualcosa ad uscire di casa oppure no, attenti all'autocertificazione, e questo è importante, a questo punto ancora siamo in zona gialla, ma sapete, tra qualche giorno, il 24, insomma, vedete, saremo tutti in zona rossa, quindi sarà fondamentale se c'è la necessità di uscire, avere l'autocertificazione. Il focolaio alla Scavolini, positivi isolati, l'azienda comunque va avanti, i contagi, una quindicina in tutto, si sono diffusi solo tra gli amministrativi dell'azienda di Montellabate, la produzione va avanti regolarmente, i controlli sono molto serrati, forse un asintomatico ha portato il Covid, quindi un dipendente dell'amministrazione della Scavolini ha creato un po' di problemi alla grande azienda di Montellabate perché nonostante tutti i controlli, tra l'altro anche molto rigidi, ha creato un piccolo focolaio con circa una quindicina di positivi. È una situazione che è stata comunque subito isolata e tutta l'area amministrativa è stata immediatamente sanificata e quindi comunque la produzione, come dicevamo, alla Scavolini va avanti. Intanto guardate queste fotografie che pubblica il Corriere Adriatico questa mattina da Pesaro, centro, l'ultimo assalto tra brindisi, shopping, ciao ciao, normalità, l'afflusso di gente è stato una costante a partire già dalla mattinata. Ieri sabato c'era il mercato a Fano, anche a Fano era impossibile trovare il parcheggio sabato mattina, poi tra l'altro i parcheggi a pagamento sono stati eliminati, quindi la gente non aveva nemmeno il problema di togliere la macchina perché magari scadeva il tagliando. Quindi praticamente impossibile arrivare in centro a Fano, così come è stato complicato arrivare in centro a Pesaro nella giornata di ieri, i negozianti aperti sono ancora lì in attesa di fare qualche ultimo affare dell'ultimo minuto, certo è che queste fotografie ci dicono molto su che cosa ci aspettiamo da questa pandemia, da come ormai non ne possiamo più e non vediamo l'ora di uscirne a costo del rischio appunto di essere contagiate e di fare i danni. Però questo è, questo è, c'è tanta voglia di... Io non so come ne usciremo, quando un giorno arriverà la notizia diremo potete togliere le mascherine, è finito tutto, non so, ci sarà un crollo generale oppure un entusiasmo a palla che festeggeremo 24 ore su 24. C'è invece una brutta notizia per gli animalisti, ma non solo, anche quelli che non sono proprio animalisti. Vi abbiamo parlato nel nostro telegiornale, siamo stati i primi a darvi questa notizia, a far vedere quelle brutte immagini, bruttissime immagini di quella gattina, di quel micetto che è stato trovato dentro un cassonetto tutto scocciato, con dello scotch buttato lì dentro, era stato salvato, era stato portato da un veterinario. La notizia purtroppo è che questo gattina non ce l'ha fatta, è morta. Questa gattina gettata nell'immondizia legata con il nastro adesivo purtroppo è morta, ecco la foto di questa micetta, purtroppo è una brutta notizia, è una brutta notizia perché per tante ragioni che non c'è bisogno nemmeno di spiegare. Qui c'è il racconto che troverete sulla pagina del Corriere Adriatico di questa mattina. Poi c'è invece la notizia dal Carlino pagina 5 di Pesaro di una coppia di genitori ottantenni che è stata salvata dal figlio, il figlio che a un certo punto si è accorto che questi due genitori ottantenni perdevano sempre di più le forze, si stavano lasciando andare e di conseguenza ha capito che qualcosa non andava. Quel qualcosa si chiama esalazione di monossido di carbonio, che all'ora di pranzo, provenienti da un cammino, avevano già invaso la stanza in cui questi due anziani si trovavano. Questo figlio li ha salvati da una possibile morte per intossicazione. I due hanno iniziato a perdere i sensi sul posto 118 e i vigili del fuoco. Poi sono stati portati all'ospedale e tutti e due sottoposti a terapia a base di ossigeno e nessuno di loro è grave. Poi furti in Via Velino, topi d'appartamento a Vismara, riecco la banda del pomeriggio. E poi ancora la cronaca, sempre dai giornali, questa volta dal Corriere, la famiglia va a fare shopping, i ladri mettono casa sotto sopra, il furto nel quartiere di Vismara, la polizia interviene per una rissa al porto. All'ospedale invece, anziani coniugi intossicati dai fumi del cammino, all'allarme nel primo pomeriggio a Colombarone, il monossido di carbonio aveva saturato il locale. Tra l'altro il monossido è terribile perché non ti accorgi di nulla. Quindi ti ritrovi per terra e se non c'è nessuno che ti raccoglie, rimani lì. Travolge ciclista e scappa, ha trovato il pirata. Siamo a Senigallia, nella pagina del Carlino. I carabinieri hanno rintracciato l'auto da un meccanico e di un settantenne che non ha ammesso di aver investito l'anziana. E poi a Ostravetere c'è, in una casa di riposo, è stato individuato un positivo. La pagina di Fano invece del Corriere. Il parcheggio camper sarà a pagamento. Il nuovo assetto nel progetto di ampliamento dell'area di Via Kennedy è presentato dall'assessore Tonelli. Soddisfatta l'associazione regionale dei gestori dei campeggi, un provvedimento contro l'abusivismo. E poi, sempre a Fano, inaugurato l'ufficio di promozione sociale. E adesso, sempre dalla pagina del Corriere, slitta al 2021 l'apertura del Palatrave. Palatrave è una struttura che prende il nome dal quartiere, appunto Trave di Fano. Nonostante la rinuncia agli spogliatoi, slitta al 2021 questa apertura. Per il suo completamento mancano ancora la posa della pavimentazione e l'implementazione del riscaldamento. Grazie per i controlli serrati, ma il commercio è in apnea. Le associazioni fanese dei commercianti plaudono ai controlli delle operazioni per prevenire i furti nei negozi, ma la situazione è difficile, dice Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano. A Pesaro, al Conservatorio, arriveranno 6 milioni di euro, grazie al lavoro Bipartisan, Letta, Giordano e Vimini, insieme e Ricci ringrazia la Gelmini. E poi i controlli, anche il mercato mensile della Stradomenica ha sperimentato lo stop and go contro la folla e dunque contro gli assembramenti. Una variante per la nuova scuola Lighieri. Per costruire il complesso sarà necessaria una deroga agli strumenti urbanistici. Parliamo della nuova scuola Dante Lighieri di Pesaro, dove serve appunto questa variante per far partire i lavori nel 2021. Poi la mancanza del piano d'ambito è proprio una grave inadempienza. Sul biodigestore di Vallefoglia, la rete Città Sostenibile rilancia il compostaggio aerobico contro la digestione anaerobica. E poi saturimetri, smart TV e tablet per gli anziani delle 13 RSA, iniziativa di Spazio Giovani Metauro, sempre da Vallefoglia, i doni distribuiti secondo le esigenze segnalate dalle stesse case di riposo. Sapete che gli anziani, che sono le case di riposo, che non hanno strumenti tecnologici per collegarsi con i parenti. Sai che a volte adesso ci sono anche addirittura le stanze degli abbracci con dei cellofan che servono per proteggersi, eccetera. a volte dove non ci sono le stanze per gli abbracci è importante che ci sia almeno come dire, la visibilità anche attraverso un tablet, anche attraverso un cellulare, e quindi questi doni sono sempre doni ben accetti. Poi gli anziani non li sanno usare, c'è bisogno di qualcuno nelle RSA, nelle case di riposo, un po' più tecnologico che sappia aiutarli. Andiamo a vedere la pagina di Sasso Corvato. Struttura in disuso da oltre sei anni, adesso spunta l'ipotesi demolizione, mercatelli sul blocco dell'alto dell'ospedale Lanciarini, le indicazioni sono in una planimetria, poi sotto da Pesaro un torrette per provincia non è la soluzione praticabile, Ninel Donini di articolo 1 contesta la visione ospedaliere della vecchia e della nuova giunta regionale. E ancora a Valcesano arrivano le tessere Bancomat per le famiglie dei nuovi nati, a terre roveresche 2.500 euro a carta, oggi e domani regali ai bimbi delle elementari e poi per 24 bambini della primaria di Orciano il Natale sarà in quarantena. Almeno fino al 28 dicembre 24 bambini della quinta elementare della scuola primaria Cosimo Betti del municipio di Orciano e per il personale scolastico si pronuncia appunto un Natale in quarantena. Poi itinerari della bellezza la rete dei comuni a quota 13, il bilancio di Varotti dice esce Sant'Angelo in vado, entrano Tavuglia e Sasso Corvaro. Senigallia posteggi in centro storico, la sosta diventa gratuita, effetto lockdown, agevolazioni dal 28 dicembre fino al 9 di gennaio, il ponte sarà ridotto, per quanto riguarda la costruzione del nuovo ponte, sarà ridotto il cantiere. Si schianta con l'auto sull'albero, ragazzo ferito, l'incidente sabato sera lungo via delle Vigne, un ragazzo di 22 anni di Senigallia. Donne investite in bicicletta, denunciato il pirata, l'automobilista settantenne aveva portato l'auto in carrozzeria, come se niente fosse, cioè uno investe una donna, poi vai dal carrozzeria e dice guarda ho avuto un problema, me la sistemi e va bene. L'Alma K.O. Al Braglia, siamo allo sport per chiudere la nostra segna stampa, Modena non si scampa, la squadra di destro non riesce a passare nella roccaforte emiliana, Modena che ha vinto in casa 2-0 contro il Fano, Granata partono bene ma sono anche sfortunati e tornano a casa senza punti. La Vis Pesaro invece vince in casa contro l'Arezzo 3-2, c'è la Vis domato l'Arezzo, missione di Natale quasi compiuta e infine dal Corriere il basket dopo il blitz, Pesaro guarda alla Final Eight, l'impresa di Brindisi ha rilanciato la VL in classifica, ora ci sono altre due partite prima della fine dell'anno. Ora, la rassegna finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata, vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale Occhio e la Notizia alle 20.30, poi che altro Riccardo, possiamo dire, Babbo Natale c'è oggi? Sì. C'è impegni? Stasera c'è anche un documentario sul quartiere di San Lazzaro di Paolo Alberto del Bianco. Molto bello questo, sì, 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 è vero, è fatto bene a ricordarlo, a che ora? Dopo il telegiornale? Quindi vi invito per tutti gli abitanti, per i fanesi naturalmente, ma anche per quelli che abitano nel quartiere di San Lazzaro, c'è un bel documentario di Paolo Alberto del Bianco e quindi vi invito a seguirlo. E allora, restate con noi, tanti sono gli appuntamenti, vi faremo compagnia, stiamo andando verso il lockdown, quindi cercheremo di stare di nuovo insieme in queste festività di Natale. Teniamoci su, forza e coraggio ce la faremo, buona giornata a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.